Hello everyone! perchè questa candela come ben sapete ha un gioiello all'interno e per prendere questo dannatissimo gioiello la candela si deve sciogliere a meno che voi non vogliate fare tipo assassini ed uccidere la candela e scavare all'interno e quindi prendere il gioiello cosa che tra poco probabilmente farò anch'io perchè questa per sciogliersi ci metterà altri 300 miliardi anni probabilmente la mia stanza è tipo inebriata dall'odore da questa cosa stupendissima questa candela ovviamente mi è stata omaggiata dalla jewel candle la chiudo così la faccio spegnere bellissimo la cosa bella è che c'ha il coperchio che chiude quindi è una cosa veramente che mi piace veramente tanto poi il profumo penso sia uno delle migliori candele che abbia mai sentito il profumo c'è un profumo veramente tipo super iper forte però di non buttarmi la cera addosso oddio ce la sto facendo oddio ce l'ho fatta ce l'ho fatta eccolo Oddio ce l'ho fatta Oddio non ho niente Su cui poggiarlo Direi che da qui dovrebbe uscire un anello Non vorrei bruciarmi speriamo Allora voglio parlarvi un secondino di questa candela Allora Questa precisamente è lo sweet cupcake Allora loro me l'hanno mandata così Con questo fiocchettino Con il bigliettino di garanzia Qui troppo bello Ovviamente io vi lascio il sito nell'info box Tutti i loro siti li trovate su facebook Su instagram il sito principale Dove potete comprare la candela Lo so costa un pochino Ma ne vale la pena Perché ha un profumo Cioè è inebriante Veramente fortissimo Cioè questo sembra di avere una crema alla vaniglia Preparata nella stanza in questo preciso momento Troppo troppo bello Ne vale la pena perché se volete fare un regalo davvero originale È il regalo quindi che fa per voi Se volete Ovviamente andando sul sito Inserendole il mio nome Quindi Yolanda Yeah Potete avere il 20% di sconto Sulle candele Su ogni candele Fino a luglio Voi potete avere questo sconticino Quindi questo 20% di sconto Adesso però Vado ad aprire Il gioiello A mio dio mi sto infanzando tutta È una bella diavolo questa Di mettere i gioielli dentro la candela Anello esce Il valore di questo anello Può variare Ho letto dal sito Dai 10 euro Fino ai 250 Se non mi sbaglio Ovviamente voi sul sito potete trovare Anche altri tipi di candele Con altri Profumazioni Stupendissime Ovviamente non ci sono solo gli anelli Ma ci sono anche Gli orecchini E i ciondoli Quindi potete scegliere Avete una vasta scelta Anche di profumazioni E di tipo di gioiello Il gioiello che mi è uscito È questo qua Ve lo faccio vedere Ovviamente questo Questo qua Con questa pietra È il mistero Della pietra azzurra Bellissimo E niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Ovviamente Se volete vedere Le candele Il sito Sono scritto Tutto nell'info box Mi raccomando Se volete O soffrite Quindi dello sconto Del 20% di sconto Con il mio nome Quindi scrivete Yolanda sul sito E avete lo sconto Per la candela Che preferite Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Che vi abbia tenuto Un pochino di compagnia E vi mando Un bacione enorme Un abbraccio E noi ci vediamo In un prossimo video Bye 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 bye